La mia ragione vince la mia ragione, dobbiamo credere, secondo questa legge, ogni azione è complessa. La mia ragione esiste in positivo e in negativo. Vuol dire che vado verso l'amore in una materia dell'elettricità e vuol dire che ritorno dalla morte con la mia ragione soltaneamente ritorno dalla morte con antimatter e magnetismo. Il mio punto di morte è il mio punto di inversione e conversione del mio materiale progresso e il mio antimateriale e il mio magnetismo. Questo punto di conversione è nel bel mezzo dell'amore. Questo punto è come l'esodo, del mio russo degli ebrei. Gli ebrei arrivarono nel deserto dopo una vita vissuta interamente nell'apprendanza sotto il morso del faraone, come gli ebrei. Oggi stiamo vivendo nella ricchezza del possesso delle cose che abbiamo, valutandole. Siamo contemporaneamente in entrambi i luoghi, nel deserto che ci consente di vivere in questa terra. La nostra Pasqua è la morte apparente, ma che non è una morte, ma un punto di conversione. La mia ragione, vedete, vince la morte per sempre. Siamo già convertiti con potenza divina in un punto di conversione collocato al centro della nostra vita Ed è così, in modo che tutti possano fare il controllo perfetto, il bilancio perfetto della propria vita Attraverso il vero e proprio bilancio economico fatto tra l'entrata e l'uscita, il positivo e il negativo, perché ogni uomo possa assumere liberamente la sua nascita, fissare il suo interesse personale. E' l'interesse personale sulla vita, il centro delle intelligenze divine su ciascuno di noi. Il sistema onipotente in cui noi siamo vuole che ognuno scelga liberamente questa sua estremità. Dopo che ogni fede che esiste all'entrata, all'entrata che qualcuno alla connessione, dobbiamo sapere che al centro della nostra vita, vivere ha già fatto questa conversione. Ma questa stessa è la vera prova che la morte non è una morte, ma solo una conversione tra le due parti in giostia della stessa nostra complessità. Se gli uomini sono in grado di essere convinti dalla verità di una legge, allora sono veramente in grado di non temere più la morte, di non temerla più per sé. Ma gli uomini non sono in grado di farlo. Ma gli uomini non possono farlo e le mie parole sono in grado di farlo. No. 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 Grazie a tutti